A due passi dalla Minerva, Trestor Pavia Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera Servizio Re-Phone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone E con Trestor Pavia si è davvero free Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a Trestor Pavia.it Parliamo di taglia e la sanità dal post pubblicato su Facebook da Gino Strada che è il fondatore di Emergency 10 milioni di italiani non possono curarsi come dovrebbero perché non possono permetterselo Lei cosa ne pensa? È vero che la sanità anche quella pubblica costa troppo? Secondo me la sanità in Italia funziona meglio che in altri paesi Però le ultime scelte che sta facendo l'Italia a livello governativo è di eguagliarsi agli altri paesi E forse la sanità ora incomincia a costare di più a noi italiani di quanto ne è costata prima Però ci sono diverse sfaccettature di questa domanda a cui dobbiamo rispondere La sanità forse non andrebbe riorganizzata rivedendo forse il privato È giusto che in questa lotta all'evasione diamo spazio a questa classe nobile di dottori e medici e specialisti che ogni giorno fatturano nero a discapito delle casse dello Stato Forse non sarebbe ora magari di permettere di creare come si fa per esempio anche in Francia Tu scegli di andare da chi vuoi Vai dal dentista, paghi 100 euro Il dentista non ti chiederà mai il nero perché tu sai che recupereresti dal tuo dentista per certi tipi di idee almeno il 70% E quindi tu avresti una sanità più snella in questo sistema E riusciresti comunque ad abbattere l'evasione fiscale fatta da molti medici e professionisti del settore Perché ormai è risaputo che tutti paghiamo tante volte delle cifre Perché? Perché tu alla fine se il dottore ti dice invece di pagare 100 paghi 70 Va bene, se è in momento di crisi se posso risparmiare risparmio Ma alla fine facciamo un danno a noi stessi con questa scelta Ascolta, tu sei di Voghera? Sì, sì, sono di Voghera però ho vissuto diversi anni fuori Come giudichi invece l'ospedale di Voghera? Io fortunatamente negli ultimi dieci anni non ho avuto niente a che fare con l'ospedale di Voghera Ho sempre saputo che è stata una buona struttura A oggi non saprei dire Ne sento parlare, alcuni ne parlano male Però non è che uno può farsi un'opinione su quello che altri dicono Senza avere un'esperienza personale Secondo me occorrerebbe riorganizzarsi e cercare di fare qualcosa a livello locale E cercare di gestire le proprie risorse che lo Stato ci dà per essere impiegate al meglio Adesso si parla di tagli sanitari E poi vogliamo parlare delle nostre cunette che stanno facendo ultimamente per le strade di Voghera Erano veramente necessarie Forse non andava domandato ai Vogheresi se andassero fatte o meno Queste sono le cose Forse la politica rappresentativa non funziona più Forse occorrerebbe a livello locale una politica partecipativa Che sappia gestire meglio i soldi pubblici Sì effettivamente sì Costa veramente troppo la sanità In proporzione a quello che loro ci danno oltretutto Addirittura Genostrada ha proseguito scrivendo C'è però una cosa nella sanità che costa più di tutto il resto e che viene ostinatamente censurata Ovvero il profitto Gli ospedali sono come delle aziende Bisognerebbe pensare a fornire le migliori cure per tutti e non al pareggio di bilancio Si potrebbe pensare ad ospedali no profit Una vera sanità pubblica totalmente gratuita Secondo lei è fattibile o è un'utopia? Sicuramente è un'utopia Perché? Perché in Italia non cambierà mai niente Perché con tutte le dirigenze che abbiamo non cambierà mai niente Perché non possiamo fare la guerra contro il munito a vento Contro gente che non sappiamo chi è Quando ci dicono che un malatto in ospedale costa 200-300 euro al giorno A chi vanno e perché vanno e con che stipendi Bisognerebbe avere una sanità trasparente Ma la vedo un po' dura Secondo lei la sanità a livello provinciale qui in provincia di Pavia come è messa? Fortunatamente non lo so Perché non ho ancora avuto modo fortunatamente Spero bene, spero bene, ma non lo so È abbastanza E poi non tutti in questo momento riescono a pagare questi ticket Tutte queste cose Quindi il problema è grosso Conferma quello che ha scritto lui quindi? Secondo me sì Perché si fanno tanti tagli? Forse perché c'è una distribuzione errata anche degli stipendi Tutta questa gente qua che non fa il loro dovere ad un certo livello Lui addirittura ha scritto Gli ospedali ormai sono come delle aziende Che pensano soltanto al bilancio E addirittura lui auspica che gli ospedali si possano trasformare In qualcosa di no profit Una vera sanità pubblica totalmente gratuita Secondo lei è più un'utopia oppure è fattibile in qualche modo? È un po' un'utopia secondo me al momento di adesso Però con buona volontà si può sempre migliorare A livello di sanità locale come la giudica invece Voghera, Pavia? Beh diciamo che Pavia funziona abbastanza Penso che in Lombardia la sanità bene o male Ho girato anche a Milano eccetera eccetera Può funzionare In altre regioni mi dicono un po' meno Grazie a tutti